La precedenza corretta, nelle intenzioni, sarebbe dovuto essere un romanzo puramente comico, in grado di far passare il tempo libero in maniera piacevole e spensierata. Scrivendo, proprio, mi sono reso conto che ci stavo mettendo dell'altro, che lo stavo infarcendo di generi diversi. Quindi c'è sì la commedia, ma c'è anche la tragedia, c'è il romanticismo, c'è il dramma e c'è anche il fantasy. Insomma, un libro che ha tante sfumature, un po' come la vita, racconto la storia di due amici, due amici che vanno ogni lunedì sera con un rito ossessivo nello stesso locale e diventano un po' gli osservatori di questa varia umanità che entra e esce dal pub, tra un piatto di amatriciana e un bicchiere di vino. Ecco, loro sono i testimoni di un periodo, di una certa atmosfera, cose che oggi ci sembrano così lontane, in questo periodo di pandemia. Però, ecco, ci va a fare un salto indiato nel tempo, con il sorriso, ma con l'intenzione anche di suscitare dei pensieri, delle riflessioni. C'è anche un personaggio noto sulla copertina del libro, che è Marta Flavi, personaggio che fa parte di questa storia perché è la musa di uno dei clienti e avrà un ruolo importante in questa storia. Se avete voglia di ridere e di riflettere, ve lo consiglio. Grazie a tutti.